e si amici miei sono veramente tantissime le informazioni che registriamo di giorno in giorno di ora in ora ovunque ci giriamo troviamo una fonte di nuove informazioni e come muoversi di fronte a questa valanga di informazioni dalla quale siamo quotidianamente sommersi ci si difende anzi si registrano le informazioni in maniera giusta se possediamo dei filtri nostri personali che sono filtri di carattere culturale della nostra sensibilità dell'esperienza di vita cioè non dobbiamo prendere per oro colato tutto quello che ci viene detto attraverso le radio le televisioni attraverso internet bisogna valutare bisogna verificare questo è il vero problema dei nostri tempi e questa è la vera battaglia che ciascuno di noi dovrebbe compiere cercando di lottare tra virgolette affinché la cultura abbia il sopravvento su qualsiasi qualunquismo e cercando di dire ai nostri ragazzi che la cultura non è qualcosa di noioso la cultura è uno strumento fondamentale della nostra vita la cultura ci aiuta a non cadere nella trappola delle false informazioni grazie a tutti grazie a tutti